Lo sviluppo e la realizzazione di un progetto turistico integrato su questi territori passa attraverso alcuni elementi fondamentali. Innanzitutto il collegamento con l'area romana, visto che questa area omogenea in un certo senso è la porta d'ingresso di una parte dell'area laziale verso l'Abruzzo. Passa attraverso la valorizzazione di un territorio che ha una caratteristica peculiare. È uno dei territori meno antropizzati d'Italia, quindi può favorire un tipo di turismo certamente di nicchia, ma sicuramente di nicchia importante. E poi chiaramente la realizzazione di infrastrutture dal punto di vista della sentieristica naturalistica che possono mettere in collegamento i territori e costituire un valore aggiunto. Tutto ciò può essere favorito da questa iniziativa e dal tentativo di lavorare insieme, quindi sicuramente un progetto importante su cui lavoreremo.